Signor Presidente, signora Marcella, benvenuti a Erlen, l'antica Corio Fallon, una delle città più antiche dei Paesi Bassi, dove i vostri e i nostri antenati costruirono queste terre, finora il più vecchio edificio costruito in pietra nei Paesi Bassi. Era un glorioso passato, che inizia in epoca romana, ma anche nel medioevo e... La prima fase era un primo edificio compatto, con tutti gli elementi che appartengono nella cultura in cui la struttura fu arrivata a fortezza. All'interno, prima al monumento, darò maggiore informazione. Posso chiedere di salire con me? Era il primo che ha trovato, sono stati più di scavi in questo periodo e negli ultimi anni abbiamo avuto una nuova ricerca su questo monumento. Non posso dire che questo patrimonio al futuro generazione è necessario un nuovo edificio con un buon clima angosia-conti e conoscenza. Cioè in Italia una cosa naturale, come il loro passato, non diventerà solo un punto di riferimento nella città, ma anche nella regione. Ovviamente queste terme ne saranno il punto. Si fa un grande onore. Salute Grazie a tutti. Grazie a tutti.